Signori buongiorno e benvenuti sul canale del Master Kai, oggi insieme al nostro ospite parleremo di interpretazione del personaggio. Probabilmente soprattutto se avete iniziato a giocare di ruolo da poco e avete chiesto in giro di darvi qualche consiglio su come interpretare il vostro personaggio, qualcuno vi avrà dato un consiglio tipo tu devi sentire il tuo personaggio, cioè devi proprio sentirlo dentro, devi fare in modo che quando tu sei al tavolo tu e il tuo personaggio diventate una cosa sola e tu devi immedesimarti totalmente nel tuo personaggio o comunque qualcosa di molto simile. Ecco questo è probabilmente il peggior consiglio che potevano darvi e nel video di oggi cercherò di spiegarvi il perché. Ma non è vero cioè se non ci metti l'estro, non ci metti la creatività, non ci metti le tue emozioni personali, a quel punto non è neanche giocare di ruolo. E allora perché tu hai detto esattamente la frase che serviva per dare inizio al video. Oggi siamo qui per sfatare un mito e farci un sacco i nemici. Questo sta cominciando a diventare un canale controverso. Cominciamo subito perché questo rischia di diventare un video velo lungo. Allora se vogliamo fare un discorso su quella che è l'interpretazione all'interno del gioco di ruolo in realtà dobbiamo fare un passo indietro e andare a vedere come è gestita l'interpretazione da chi lo fa nella maniera più appropriata e diciamo anche professionistica. Cioè chi recita gli attori di teatro cinema quello che è. Faccio già che premettere che in questo video io dovrò fare delle enormi semplificazioni perché la teoria attoriale è un discorso immenso che ci vorrebbe un altro intero canale per trattare e quindi probabilmente se tra voi c'è qualcuno che fa effettivamente recitazione fa l'attore durante il video sentirà il bisogno di urlare contro lo schermo per quello che dico. Mi dispiace non si può fare diversamente se no bisognerebbe seguire tutti un corso di teatro. Ora come fa un attore ad approcciarsi al suo ruolo? Ci sono vari metodi che si sono evoluti letteralmente nel corso dei secoli ma per quello che interessa a noi in questo video ce ne sono due principali. Per rappresentare i due estremi di questa scala utilizzeremo due nomi che anche se non avete esperienza di recitazione probabilmente avete già sentito. Da una parte abbiamo il famoso maestro Stanislavski che fu quello che per primo codificò il metodo di cui abbiamo parlato nella scena iniziale cioè che un attore debba immergersi emotivamente all'interno del suo personaggio creare dei parallelismi tra l'esperienza della sua vita e quella della vita immaginaria del personaggio e diciamo in linea di massima cercare di fondersi il più possibile con il personaggio che deve interpretare fino a diventare praticamente quella persona quando è sul palco. In linea di massima semplificando brutalmente diciamo che per Stanislavski la rappresentazione teatrale doveva diventare così simile alla vita reale che lo spettatore doveva dimenticarsi di essere a teatro ma aveva l'impressione di essere semplicemente lo spettatore di eventi reali che si svolgessero davanti a lui. Dall'altra parte della nostra scala immaginaria avremo Brecht. Brecht al contrario diceva che il teatro è per sua natura finzione tutti sanno che è finzione tutti i partecipanti sono d'accordo sul fatto che quello che sta venendo rappresentato non esiste veramente e di conseguenza non ha neanche senso cercare una particolare aderenza alla verosimilitudine perché per quanto le persone possano essere coinvolte nell'opera non potranno mai esserlo del tutto perché quello che accade non è reale. Il suo metodo attoriale parte quindi dal presupposto che un attore non debba cercare l'immedesimazione con il personaggio ma debba estraniarsene in pratica debba uscire dal proprio corpo e imparare a utilizzarlo come se fosse una marionetta in modo da stabilire razionalmente quale sia il movimento l'espressione e l'intonazione della voce più appropriata per trasmettere la particolare caratteristica elemento emozione che la scena coinvolge e eseguire esattamente i movimenti precisi che servono a trasmettere quell'informazione in maniera più efficace agli spettatori. Per capirci più chiaramente diciamo quindi che Stanislavski dice che tu devi diventare il tuo personaggio e Brecht dice che il tuo personaggio non esiste e tu devi agire nella maniera più razionale che serva per la storia. Ovviamente la maggior parte dei giocatori di ruolo si troverà in una qualche posizione intermedia tra i due estremi di questa scala per quanto riguarda l'interpretazione del proprio personaggio. Entrambi i metodi sono considerati validi e entrambi vengono oggigiorno utilizzati con ottimi risultati a qualunque livello della recitazione dalla fiera del paese al blockbuster internazionale entrambi precedono di almeno un secolo la nascita del gioco di ruolo e per quanto all'interno del mondo della recitazione ci sia ancora un forte dibattito su quale sia il migliore o il peggiore per quanto riguarda noi del gioco di ruolo non ha neanche senso infilarci in quel dibattito possiamo definirli del tutto equivalenti da questo punto di vista. Il fatto però è che noi non siamo attori noi siamo la gente del gioco di ruolo quindi se per quanto riguarda la recitazione questi metodi possano dirsi indifferenti non necessariamente questo è vero anche per noi perché partiamo da premesse decisamente diverse. Un attore che usi il metodo di Stanislavski che probabilmente avete sentito definire un attore del metodo è per immedesimarsi e poter usare le proprie emozioni all'interno del personaggio comunque ha bisogno di tempo per prepararsi e per far partire questo processo delle volte richiede anche mesi interi di preparazione da parte dell'attore e l'attore ha comunque in mano un copione dove c'è scritto chiaramente quali sono le emozioni che l'attore deve incamerare per poter trasmettere al pubblico. Detto in parole povere l'attore del metodo ha un'idea estremamente precisa di quali sono le emozioni che dovrà incamerare e letteralmente mettere in scena e sa benissimo tutto quello che riguarda la storia del personaggio ancora prima di salire sul palco ovviamente anche chi usa la tecnica brecchiana deve fare un sacco di preparazione anzi probabilmente deve fare ancora più preparazione durante il suo periodo di formazione ma una volta che ha trovato il modo di muovere il suo corpo come se fosse un'entità esterna al di là del capire quali sono i movimenti effettivi che deve fare per uno specifico personaggio le sue competenze sono trasferibili da una parte all'altra diciamo che una volta che ha imparato come si muove la marionetta poi potrà muovere qualunque marionetta gli passi per le mani questa è già una situazione molto più simile a quella che sperimenterete voi come giocatori che sarete chiamati a interpretare vari personaggi nel corso della vostra carriera di gioco di ruolo magari anche molto disparati l'uno dall'altro perché sistema diverso gioco diverso personaggi diversi e anche se questa è una rubrica per i giocatori questo discorso vale anche molto di più per il master che magari deve interpretare vari personaggi in scena contemporaneamente nella stessa serata e già questo renderebbe brecht preferibile a stanislaski ma c'è anche un'altra cosa molto importante di cui dovete tenere traccia e dovete tenere a mente chi recita cinema teatro quello che è per quanto ci sia la possibilità che improvvisi una scena e che alcune scene vengano cambiate nel corso dell'opera in linea generale ha comunque sempre un'idea estremamente precisa sia di quale siano le premesse della scena cioè da dove la scena parta sia dove la scena deve andare a finire per poi agganciarsi alla scena successiva quindi per quanto magari all'interno della scena sia anche permessa dell'improvvisazione il finale della scena è praticamente sempre stabilito questo però è un lusso che voi come giocatori di ruolo non avete sì magari potete avere un'idea generale di quella che dovrebbe essere lo svolgimento della trama perché conoscete i troppo del genere di riferimento anche solo magari conoscete il master il modo in cui ragiona e quindi quando è stato presentato il signore del male è diventato praticamente ovvio che questa storia finirà con la sconfitta del signore del male ma il gioco di ruolo per sua natura vede proprio che la storia l'unione tra i vari punti di trama sia in grossa parte improvvisato al tavolo voi non sapete quante scene ci sono tra l'inizio della vostra campagna e la sconfitta del signore del male non lo sa neanche il master in realtà tutti state improvvisando con magari il master che cerca di spingere verso un determinato outcome ma anche gli altri giocatori al tavolo che cercano di portare la scena dove preferiscono loro quello che siete chiamati a fare voi come giocatore e analizzare la scena in cui sta agendo il vostro personaggio e decidere non solo quale sarà l'esito della scena più favorevole per il vostro personaggio e per il vostro gruppo ma anche quale sarà il modo che renderà la scena più di intrattenimento per tutti gli altri giocatori ne abbiamo già parlato nel video su quello che farebbe il mio personaggio quindi non starò a ripetermi qui ma il vostro scopo come giocatore è proprio quello di mandare avanti la storia e far divertire gli altri in questo caso sicuramente l'interpretazione brecchiana della recitazione vi sarà molto più utile appunto perché prevede che voi vi estragnate dal personaggio e pensiate razionalmente a quali sono le azioni che dovrebbe compiere ovviamente all'interno della sua psicologia di riferimento e poi mettete in scena quelle nella maniera più efficace per ottenere il risultato che preferite per quella determinata scena e adesso sono sicuro che c'è qualche amante della totale interpretazione nel proprio personaggio che sta furiosamente scrivendo un commento sul coinvolgimento emotivo ok parliamone esiste effettivamente anche all'interno del gioco di ruolo una tecnica che potrebbe essere considerata assimilabile al metodo di stanislaschi che prevede di coinvolgersi al suo personaggio soprattutto trasferire alcune proprie esperienze sia pratiche sia emotive al personaggio stesso nel corso degli anni è stata chiamata un vari nomi negli ultimi anni ho visto che il termine tecnico si è stabilizzato su bleed ora chiariamoci è ovvio che ci sarà sempre un qualche tipo di coinvolgimento tra voi e il vostro personaggio e che ci sarà un trasferimento da voi a lui anche solo per il fatto che se a voi non piaceste quello che fa quel personaggio non stareste lì a giocare quel personaggio a quel gioco a quel tavolo è ovvio un giocatore del ruolo tra l'altro deve sforzarsi intrattenere tutti al tavolo compreso se stesso non avrebbe senso che voi vi metteste a fare un personaggio in cui non vi riconoscete o semplicemente non vi interessa minimamente raccontare la sua storia solo perché il personaggio piace tanto ai vostri amici non dimenticatevi però quello che abbiamo detto all'inizio stanislaschi e brecht sono i due estremi di una scala per quanto riguarda noi quindi indipendentemente da cosa porterete effettivamente al tavolo ricadrete una posizione intermedia anche se voi vi sforzaste di portare al tavolo un personaggio giocato con pura fredda logica e facciate sempre la cosa razionalmente migliore senza avere alcun coinvolgimento con quel personaggio al di là che essendo le vostre scelte la vostra logica un trasferimento ci sarà sempre il personaggio non farà la cosa più logica farà la cosa più logica per voi e anche nel caso riuscita ad arrivare alla logica pura in quel caso non sarebbe più un'interpretazione di ruolo ma sarebbe banalmente una simulazione non ci sarebbe più una volontà artistica quindi avrebbe anche poco senso giocare il ruolo in quel modo l'approccio che dovete tenere quindi non è quello di cercare di essere il più possibile il personaggio fare esattamente quello che secondo voi lui farebbe e la storia vada in malora se poi torna torna se non torna ci penserà il master a raddrizzare le cose perché questo rischia non solo di bloccare la narrazione ma di peggiorare anche l'esperienza degli altri e anche la vostra se gli altri lo fanno a voi piuttosto prima cercate di essere razionali ricordarvi che voi siete un giocatore seduto a un tavolo insieme a altra gente tutti hanno il diritto di divertirsi ricordarsi che il gioco a cui state giocando ha delle regole quindi qualsiasi cosa dovete esprimere dovete esprimere all'interno di quelle regole in pratica ricordarvi che ci sono tutte delle strutture che dovete rispettare ogni volta che fate agire il vostro personaggio e poi dopo che avete preso in considerazione tutti questi elementi in maniera razionale in maniera distaccata decidete come far agire il vostro personaggio all'interno di quel frame di riferimento poi se è il caso all'interno di quell'azione nulla vi vieta di inserire tutta la passione tutto il trasferimento tutto il bleed che volete perché tanto sapete che a quel punto qualsiasi cosa farete non rischierete di rovinare il gioco per gli altri quindi potete farlo anzi in maniera molto più libera ma sono sicuro che quest'ultima parte non l'ha ascoltata nessuno quindi i commenti sul bleed li troverò lo stesso è un problema è il mestiere quando è un canale youtube comunque diciamo che mi sembra di aver chiarito il mio punto con sufficiente chiarezza quindi questo video può anche finire qui vi avviso non cercate di ripetere quello che ho detto a qualcuno e fa effettivamente recitazione se no vi riderà in faccia a cui ho dovuto fare delle semplificazioni veramente enormi e io non sono un attore tra l'altro e adesso la parola come sempre sta voi ditemi se voi utilizzate il metodo brecchiano il metodo di stanislaschi e lo fate funzionare lo stesso se usavate uno dei due metodi ma semplicemente non sapevate quali i nomi dei due registi tra l'altro per essere chiari questi non sono gli unici due metodi di recitazione ne esistono molti altri questi sono gli unici due che abbiamo preso in considerazione per questo video tra l'altro mentre facevo ricerche per il video ho trovato che c'è un articolo che molto simile anche lui parla di stanislaschi e brec sul blog del gatto sul fuoco vi lascio il link nei commenti nel caso vogliate andarlo a vedere lui si concentra su tutte altre cose ma io l'ho trovato interessante per il resto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo credo a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link del gruppo e discord server di telegram dove si riunisce il resto della community del master kai io sono il master kai e noi ci vediamo al prossimo video